Edoardo Piovani qui da Etrea, tre giorni, tre piazzamenti, è andato bene? Sì, sono contento di questi piazzamenti, la cavalla sta andando bene, è più di tre gare che sta facendo dei buoni risultati, andiamo avanti così. Sì, è un anno iniziato molto bene, Roma, fiera cavalli, è andata super bene. Sì, ho fatto anche lì dei buoni piazzamenti, in 130 e nel Gran Premio una stella, sono arrivato il nono e sono contento. Stai montando sempre la tua cavalla storica, c'è qualche novità in scuderia? Arriva un cavallo nuovo? Può essere che prossimamente arriverà un cavallo da affiancare a lei. Stai provando qualcosa? Hai visto qualcosa in giro? Sì, però diciamo che non ho fretta, per cui c'è tempo. Se di prossimi appuntamenti fare il Toscana Tour? Sì, farò il Toscana Tour nel weekend di Pasqua e poi prima un nazionale a Manervio 24. Poi lasci tranquillo un po' la cavalla? Sì, perché sono tanti concorsi che sto facendo. Stai facendo bene? Sì. Bene, grazie. Grazie. Grazie.